buongiorno a tutti ben ritrovati da andrea criminal e da damiano saluta damiano oggi andiamo a vedere i nuovi arrivi trattasi di due piccoli pacchettini due acquisti fatti su facebook da come uno grande uno grande uno piccolo scusa mi sono sbagliato un pacchettino grande uno piccolo due acquisti fatti su facebook da privati elmetti medievali old school questi sono una grandissima figata con delle piume e tutto fa vedere questo dato abbiamo già tirato fuori tutto e poi un po di scudi dei lion knight è un bello assortimento di armi e armature old school bene questo era il primo pacchettino adesso vediamo il pacchettone dado aiuti aprirlo qua ci sono tante cose si non è semplice se cosa facciamo usiamo le forbici che hanno inventato i nostri antenati secoli fa guarda che invenzione è un'invenzione incredibile cosa abbiamo qua dentro cosa abbiamo qua dentro dado una maglietta maglietta dei forest man verde col simbolino bellissima si aspetta aspetta mettere questa roba qua e una dei black falcon bellissima guarda che bella blu e abbiamo anche una lettera buongiorno andrea grazie per aver acquistato le magliette un paio di suggerimenti per la conservazione ed il lavaggio lavare sempre rovesciate massimo 30 gradi non stirare direttamente la stampa in caso di arricciamenti o di stacchi del disegno ricoprire con carta forno poi con ferro da stiro a potenza media premere leggermente con lieve movimento circolare per una decina di secondi seguendo questi piccoli consigli potrai divertirti con le tue magliette per molto tempo grazie ancora ed un abbraccio questo è simone il ragazzo che ho incrociato su facebook che produce queste meraviglie guardate bellissime delle stampe stupende e adesso lascerò qua in descrizione del video un link alle sue pagine instagram perché gli ho detto che avrei voluto promuovere il suo lavoro perché fa dei lavori veramente molto molto belli andate a vedere il profilo prezzi onestissimi magliette bellissime adesso andrò a provarle e vi ringrazio di essere stati qua con me si sono mie Damiano sono mie sei contento ti piacciono ne volevi un anche tu e adesso vediamo se le fanno anche pro bambini ciao a tutti saluta